Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0 La menzione dei quattro angeli incatenati nel fiume Ofrate si trova nel libro della Bibbia, Apocalisse. Questo momento ha catturato l'immaginazione di molti per secoli, dando origine a varie interpretazioni e teorie sullo scopo e l'identità di questi angeli. Molti credono che gli angeli incatenati simboleggino qualcosa di più grande, alcuni addirittura li vedono come potenti esseri spirituali e altri come rappresentazioni metaforiche di eventi naturali o storici. Indipendentemente dall'interpretazione, il concetto dei quattro angeli incatenati nel fiume Ofrate continua a incuriosirci e ispirarci oggi. In questo video esamineremo alcuni dei misteri storici che circondano questo concetto e approfondiremo teorie alternative sul significato e lo scopo di questi angeli. Guarderemo l'idea di loro sia da una prospettiva biblica che culturale. Che tu sia uno studioso della Bibbia o che abbia semplicemente un'affinità con i misteri storici, ti invito a unirti in questo viaggio di scoperta e speculazione sui quattro angeli incatenati al fiume Ofrate. Diamo prima un'occhiata al significato del fiume Ofrate stesso. È una parte importante della storia umana poiché ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di diverse civiltà antiche. Dai mesopotamici ai babbionesi ai persiani, questo possente fiume è stato fonte di vite e commercio per generazioni. Oltre alla sua importanza pratica, è stato oggetto di numerose leggende, miti e credenze religiose. Uno dei riferimenti più intriganti a questo fiume si trova nella Bibbia, dove viene menzionato come il luogo in cui furono incatenati quattro potenti angeli. Questo riferimento biblico ha ispirato innumerevoli teorie e dibattiti sul significato del fiume e sullo scopo degli angeli. Alcuni credono che il fiume Ofrate sia un simbolo della fine dei tempi, mentre altri credono che gli angeli rappresentino le forze del bene e del male nell'universo. Tuttavia, non tutte le teorie si basano su credenze religiose. Alcune alternative suggeriscono che il fiume abbia svolto un ruolo importante nella formazione di antiche civiltà, come quella sumera, e che i quattro angeli rappresentano i quattro punti cardinali della bussola. Questa teoria si basa sul fatto che nei tempi antichi il fiume Ofrate era considerato il confine tra Oriente e Occidente. Indipendentemente dalla validità di queste teorie, la loro importanza storica e culturale, unita ai misteri e alle leggende che le circondano, ne fanno un affascinante argomento di dibattito. La Bibbia descrive i quattro angeli come legati al grande fiume Ofrate. Sono spesso considerati creature potenti e pericolose, che sono state confinate per uno scopo. Sebbene la loro esatta natura non sia stata specificata, molte persone ipotizzano che potrebbero essere angeli caduti o demoni. Esistono diverse teorie sull'identità di questi angeli, alcune basate su riferimenti storici o culturali. È stato suggerito che potrebbero rappresentare i quattro venti della Terra, Apocalisse 7.1. Poi vidi i quattro angeli in piedi alle quattro estremità della Terra, che trattenevano i quattro venti della Terra, affinché nessun vento soffiasse sulla Terra, né sul mare, né su alcun albero. Alcuni studi biblici affermano che gli angeli simboleggiano gli dèi babilonesi che erano adorati come la fonte dei poteri vivificanti del fiume. In questa interpretazione, la sua liberazione dalle catene è vista come un giudizio contro gli dèi babilonesi, un simbolo della fine del loro dominio e del trionfo dell'unico vero Dio. Altri credono che quattro angeli simboleggiano le forze della natura e che il fiume Ofrate sia una metafora del ciclo della vita e della morte. In questa interpretazione, la liberazione degli angeli rappresentano uno sconvolgimento dell'ordine naturale, un tempo di caos e distruzione. Indipendentemente dalla loro origine, la Bibbia li descrive come potenti e pericolosi, capaci di portare distruzione sulla Terra. Questo porta molti a credere che giocheranno un ruolo importante nel giudizio universale e nell'Apocalisse. Secondo la Bibbia, i quattro angeli furono creati da Dio per svolgere un ruolo specifico negli ultimi tempi. Sebbene il loro scopo esatto non sia chiaro, si ritiene che avranno un impatto importante sul mondo come lo conosciamo. Molti biblisti e teologi si sono chiesti quale sarà il loro ruolo. Alcuni credono che saranno loro a determinare la fine del mondo, mentre altri credono che giocheranno un ruolo essenziale nell'introdurre una nuova era di pace e prosperità. C'è persino una teoria secondo cui questi angeli potrebbero essere responsabili dello scatenamento di disastri naturali o pestilenze sulla Terra, mentre altri credono che saranno i guardiani delle porte del Paradiso. Una delle teorie che hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni è che i quattro angeli potrebbero essere messi in relazione con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, descritto nel libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetti 1-8. Questa teoria suggerisce che ogni angelo è associato a uno dei cavalieri e svolgerà un ruolo negli eventi che porteranno alla fine del mondo. Nonostante la varietà di teorie sul ruolo dei quattro angeli, la verità è che nessuno sa esattamente quale sarà il loro scopo. Sebbene la Bibbia fornisca alcune informazioni sul suo ruolo, molte di esse sono aperte a interpretazioni e speculazioni. Anche così, il concetto dei quattro angeli rimane uno dei più grandi misteri della Bibbia ed è stato oggetto di molti dibattiti e discussioni nel corso dei secoli. Il numero 4 è un motivo ricorrente in molte tradizioni religiose e mistiche e solitamente rappresenta stabilità, equilibrio e ordine. Nel cristianesimo il numero è spesso associato alla creazione e al mondo fisico. Ad esempio ci sono quattro stagioni, quattro direzioni e quattro elementi, terra, aria, fuoco e acqua. Nella Bibbia il numero 4 è anche usato come simbolo dell'idea di tutto e della completezza. Ad esempio nel Nuovo Testamento ci sono quattro vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che insieme offrono un quadro completo della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il numero è anche associato alla croce e alla crocifissione di Gesù. I quattro bracci della croce simboleggiano i quattro punti cardinali e rappresentano la diffusione del messaggio evangelico fino ai confini della terra. Il numero è anche considerato un simbolo delle quattro ferite inferte a Gesù durante la crocifissione. In questo senso il numero 4 richiama il sacrificio che Gesù fece per la salvezza dell'umanità. Nel contesto dei quattro angeli il significato del numero è suscettibile di interpretazione. Secondo alcune interpretazioni della Bibbia i quattro angeli rappresentano le forze della natura o i quattro venti. Tuttavia altre teorie suggeriscono che il numero potrebbe simboleggiare qualcos'altro completamente. I quattro angeli possono rappresentare come già detto i quattro cavalieri dell'Apocalisse descritto nel libro dell'Apocalisse come i quattro portatori di guerra, carestia, pestilenza e morte oppure rappresentare i quattro elementi della filosofia antica terra, aria, fuoco e acqua. Pertanto i quattro angeli potrebbero simboleggiare le forze elementali che portano equilibrio e armonia nel mondo. Dobbiamo notare che queste teorie non sono necessariamente supportate dal testo della Bibbia ma evidenziano il simbolismo dei quattro angeli e il significato del numero quattro nelle tradizioni religiose mistiche. Indipendentemente da ciò che simboleggiano gli angeli la loro rappresentazione nella Bibbia continua ad affascinare e ispirare i lettori. Ti sei mai chiesto perché nella Bibbia quattro angeli sono incatenati vicino al fiume Ofrate? Secondo un'interpretazione delle scritture gli angeli erano vincolati da Dio per impedire loro di provocare la distruzione e il caos sulla terra. L'idea è che l'incatenamento avesse lo scopo di dare all'umanità l'opportunità di pentirsi e rivolgersi a Dio prima della fine dei tempi. Questo atto di legare è un potente simbolo del controllo che Dio ha anche sulle forze più potenti e distruttive. Per quanto opprimente o spaventosa possa sembrare questa situazione Dio viene rappresentato come colui che ha sempre il controllo. La crocifissione serve anche come monito per l'umanità. Ricordiamoci anche l'importanza del pentimento a rivolgerci a Dio prima che sia troppo tardi. Una teoria afferma che l'incatenamento degli angeli è strettamente correlato alla fine dei tempi e all'Apocalisse poiché devono essere rilasciati al momento stabilito per determinare il giudizio finale e la fine del mondo come la conosciamo. Quest'idea ha suscitato molte speculazioni e dibattiti tra studiosi, religiosi e appassionati. Alcuni vedono il suo rilascio come un evento letterale che porterà alla fine del mondo mentre altri lo interpretano come una metafora del risveglio della trasformazione spirituale. Secondo le credenze bibliche i quattro angeli saranno liberati alla fine dei tempi quando Dio lo riterrà opportuno. La Bibbia non specifica l'ora o il modo esatto del rilascio, il che dà adito a speculazioni. Alcuni credono che la liberazione sarà causata da determinati eventi o circostanze, mentre altri che sarà un atto diretto di Dio. Questa liberazione è un evento estremamente importante nel racconto biblico della fine dei tempi e dell'Apocalisse, segna l'inizio del giudizio finale dell'umanità. L'evento è strettamente legato ad altri eventi della fine dei tempi, come l'ascesa dell'anticristo e la battaglia di Armageddon, anch'esso descritti nel libro dell'Apocalisse. Per gli scettici vale la pena notare che queste credenze si basano sull'interpretazione biblica, non su fatti scientifici verificabili. Sebbene abbiano un significato culturale e storico, ci sono ancora molte speculazioni e discussioni sull'esatta natura e tempistica del rilascio degli angeli e sugli eventi che seguiranno. Alcuni credono che gli eventi descritti in Apocalisse siano metaforici, mentre altri li vedono come predizioni letterali del futuro. Un famoso passo biblico dice quanto segue Sembra molto appropriato e utile servire a ricordare che i segreti che circondano la fine dei tempi e il rilascio dei quattro angeli rimangono proprio questo, segreti. Ma è questo mistero che continua a sconvolgere le nostre menti, alimentando continui tormenti e teorie su ciò che potrebbe accadere e alla fine se accadrà qualcosa. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie a tutti.